Leggere per fuggire, inseguire i colori, essere altrove con la fantasia. A poche settimane dall'inizio del Salone Internazionale del Libro di Torino, è questo il messaggio che trasmette la mostra Il Libro Ritrovato, 50 anni di letture per bambini e ragazzi, che da Palazzo Doria, sede del Comune di Cirie, è approdata a Palazzo Cisterna, sino a venerdì 12 maggio. «Visitando questa mostra ho visto molti di quelli che erano dei libri in casa mia, nelle mie librerie, e quindi che mi riportano all'infanzia. Oggi i ragazzi sono abituati a sfogliare i tablet, sono abituati ad avere gli smartphone e avere le informazioni attraverso questi strumenti, ma il possedere un libro, sfogliarlo e poterlo toccare, è ancora qualcosa di assolutamente importante e questa mostra lo dimostra. Quindi invito tutti a venire a visitarla e a continuare a comprare libri e fumetti». La mostra, inaugurata il 21 aprile, è il frutto del lavoro appassionato di un gruppo di donne ciriacesi, coordinate da Vanna Corgi e Maria Melis, le quali hanno raccolto e catalogato oltre 1.600 fra libri e fumetti per bambini e ragazzi. A Palazzo Cisterna ne è esposta una selezione. Ad arricchire l'allestimento e a trasformare il piano nobile del palazzo, vi sono grandi scenografie che accompagnano i visitatori, in un mondo fantastico, abitato da tigri, burrattini di collodiana memoria e personaggi leggendari. La selezione dei fumetti propone le prime edizioni del Corriere dei Piccoli e naturalmente di Topolino e di Paperino, visto che negli anni 40 in Italia il disneyano Donald Duck ebbe una rivista tutta sua. Abbiamo voluto quindi portare qui questa mostra che è il frutto di un lavoro appassionato di tante signore della nostra città, appunto Ciriè, che ha voluto mettere insieme più di 1.600 volumi di fumetti, di libri, di avventure, di romanzi per ragazzi e per adolescenti dei primi 50 anni del secolo scorso. Molti ciriacesi hanno svuotato le loro cantine, i loro solai, le loro biblioteche per dare un contributo appunto con i loro libri e con le loro opere per cercare appunto di rendere questa mostra ancora più ricca e per permettere anche ai bambini di oggi di sognare un po' con le avventure del passato.